Ed eccomi qua, Vapor Contadino presente un altro giorno qua sul canale perché oggi si parla di notte, si parla di modalità notturna come avete letto, si parla di una fattoria notturna, non lo so esattamente che cosa stiamo andando incontro ma oggi cercherò di spiegarvi tutto andando ad utilizzare anche delle immagini. Mi raccomando però voi dovete supportare questo video, condividerlo con tutti i vostri amici perché questo qua secondo me è molto interessante, potete lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanella perché siamo in road 13k iscritti quindi siamo lì lì e se voi vi iscrivete, se voi tutti che guardate questo video vi iscrivete ci arriviamo tranquillamente. Vi lascio qua sotto il link per collegare Amazon a Twitch in modo tale da avere l'abbonamento gratuito da fare sul mio canale Twitch e quindi sbloccare la mia amicizia su tutti i giochi Supercell gratuitamente. Vi lascio anche TikTok e Instagram che sono due social che utilizzo molto molto volentieri però. Andiamo su Hey Day perché iniziamo subito con una roba bomba, Night Mod di Hey Day. Prima però di andare a parlare di questo vado a fare un giretto veloce sulla mia fattoria, vi lascio subito uno spoilerino iniziale. Andiamo subito a vedere i nostri campi, andiamo subito a riscuotere delle ricompense che abbiamo messo durante la notte a fare cose. Andiamo a prendere le due fonderie che come vi ho fatto vedere nel video di ieri che se non avete visto potete trovare nelle schede cliccabili qua in alto nella playlist di Hey Day. Avevo messo a fare le due fonderie, eccole qua, le abbiamo sbloccate entrambe quindi abbiamo finalmente quattro fonderie all'interno del nostro villaggio. Andiamo a riscuotere le vendite che abbiamo finito di fare e andiamo nel mentre anche a girare la ruota del qua della fortuna in modo tale da sbloccare qualcosa di interessante. Andiamo a sbloccare un semplice pomodorino, niente di così fondamentale. La barca arriva fra un'oretta quindi se la volete vedere fare mi trovate in live oggi verso le ore 5 e mezza a provare a fare la barca. Quindi se avete anche voi delle cose da darmi, magari degli oggetti che possono essermi utili per fare le missioni, io sono qua ad aspettarvi in live. Andiamo subito a riscuotere anche la pancetta dei nostri maialini che erano belli belli pienotti perché ieri abbiamo dato da mangiare in live dopo un po' di tempo. Sapete che io non è che curo più di tanto la mia fattoria, cioè cerco di fare il massimo ma la maggior parte la fanno gli altri. Quindi cerchiamo di fare anche questa cosetta qua. Andiamo a riscuotere tutti i sacchetti da mangiare che abbiamo smesso nel mangiificio. Li andiamo a dare subito in questo momento, perfetto. Oggi andiamo anche a sbloccare il pass in live quindi secondo me può essere anche interessante per quel motivo lì. Andiamo a prenderci comunque le pecorelle e stiamo ben lì che a posto. Direi che adesso possiamo andare a mettere in vendita del grano turco perché secondo me ne abbiamo messo un po' troppo ieri a farsi e quindi dobbiamo andare un po' a smaltire perché sennò poi mi ritrovo con solo grano turco all'interno del mio granaio e del mio silos quindi non vorrei avere questa brutta sorpresina qua. Andiamo a mettere un attimo al volo a farsi nel mentre le nostre patate qua. Quindi almeno andiamo a farmarle per bene. Andiamo nel mentre anche a fare il nostro peperoncino, il nostro indakutz, il nostro cotonino e via. E andiamo a mettere anche le zucche e le solite robette che mettiamo a noi a fare. Direi che possiamo mettere forse... Sì, direi queste qua, le canne da zucchero vanno più che bene per i nostri campi di grano. Andiamo a riscuotere Kayas Farm che ci ha comprato di tutto. Vi ricordo che siamo all'interno del clan i maiali del VAP. Chi vuole entrare, basta che entrate e mandate la richiesta. Vi lascio due posti liberi come sempre. Quindi l'altro posto lo andiamo subito a liberare. Alessandro, via. Avete due posti per entrare, quindi cerchiamo di fullare il prima possibile il nostro clan. Come vedete con le missioni siamo terzi. Siamo lì però con i quarti, quindi dobbiamo impegnarci. Oggi pomeriggio in live cercheremo di impegnarci al massimo affinché non ci siano problemi di nessun tipo. Vado comunque a riscuotere questa ricompensa qua che secondo me non è niente male. Che questa qua ha delle sette consegne. Così oggi pomeriggio le facciamo tranquillamente. Ok, perfetto. Vado a prendermi nel mentre. Vediamo qua un attimo se ci sono delle cose che posso già mettere a farsi. Vabbè, ci sono dei succhi di carota molto interessanti. Quindi li vado un attimo a posizionarne uno. Vado a mettere anche nel mentre che ci siamo il carbone raffinato. Non so se lo posso fare. Quindi vediamo un attimo uno di carbone raffinato. Sei ore mi sembra un po' tanto. Guardiamo qua se riusciamo a mettere magari il gelato alla fragola. Quattro ore non è neanche troppo male. Il gelato alla fragola dove si può mettere? Nella gelateria che è qua. Guardiamo il gelato alla fragola. Perfetto. Il gelato alla fragola lo mettiamo. E siamo belli che a posto ragazzi. Siamo veramente belli che a posto. Oggi adesso inizia la parte quella che penso interessasse più a voi. Che è quella inerente a questa modalità notturna. Questa foto qua ha ricevuto una miriade di like. È stata condivisa un sacco di volte. Ha avuto un sacco di commenti. E questa è l'immagine in questione. E i day night mod. Quindi una fattoria notturna. Una fattoria 2.0. Una seconda fattoria all'interno del nostro villaggio. Tutti si sono chiesti questa cosa. L'idea è sicuramente molto interessante. Ma ho una brutta notizia da darvi. Infatti adesso ve l'andrò a dire tra pochissimo tempo. Però questa fattoria qua. Secondo me ragazzi. Fra un po' di giorni. Fra un po' di mesi. Magari in un aggiornamento futuro. Si potrebbe avere un secondo villaggio. Una seconda fattoria da andare a seguire. Oltre magari anche alla città. E altre cose. Quindi una fattoria notturna potrebbe effettivamente arrivare. Ma la brutta notizia è che questa foto è stata pubblicata. Come vedete qua. Il primo di aprile. Il primo di aprile che cosa c'è? C'è il pesce d'aprile. Infatti loro si sono. Si sono diciamo divertiti di questa cosa. Infatti hanno scritto. Sorry we had to do what we had done this day. Have a lovely day. We had to. Purtroppo ragazzi. Hanno detto che questo qua è uno scherzo. Non arriverà la modalità notturna. Almeno per adesso. Però l'immagine sembra molto sviluppata. Non sarei così sicuro che non c'entri niente con aggiornamenti futuri. Sicuramente non arriverà nel futuro prossimo. Perché si parlava chiaramente di un pesce d'aprile. Ma vi posso assicurare che arriverà. E fidatevi che non sbaglio. Nel mentre comunque è iniziata anche la nuova stagione. Che ho già provato in live. Andrò a shoppare il pass come vi ho detto. Non penso di portarvi un video sullo shop del pass. Fatto sta che se lo volete commentatemi qua sotto. Che lo posso fare. O comunque lasciate tantissimi like a questo video. Vedete che comunque si vede il pozzo. Si vede diciamo la mucca che dorme. Insomma una night mod di A-Day. Interessante. Appena l'ho vista devo dire che ero rimasto abbastanza scioccato. Poi naturalmente mi sono accorto del fatto che fosse il primo di aprile. E quindi ci stava il pesce d'aprile. Però secondo me non è totalmente da escludere un suo arrivo futuro. All'interno proprio della nostra... Del nostro account. Un po' come fu per i Clash of Clans che inserirono la barca. All'inizio era un troll. Poi in realtà era stata la verità. Quindi non lo so. Vediamo comunque cosa ci aspetta nel futuro prossimo di A-Day. Sicuramente nuovi aggiornamenti in arrivo. Perché si parla chiaramente di aggiornamenti. La nuova stagione si chiama The Valley. Se vi può interessare. E la stagione numero non si sa. Però comunque hanno aggiunto all'interno del... Due cose. Un umbrella bowler. Che è una cosa esclusiva. E una decorazione speciale. Che è la Chick-Food Topiary. Che è molto molto interessante. Comunque andatela a trovare. E per andare a prendere queste due ricompense. Basterà scioppare il pass. Io ragazzi vi saluto. Vi ringrazio di aver visto il video. Avete visto di cosa si parlava riguardo alla modalità notturna. Non so se sapevate di questa notizia. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Come vi ripeto. Probabilmente non arriverà sicuramente entro aprile e maggio. Ma non è da escludere un suo arrivo in futuro. Naturalmente appena avrò delle notizie aggiuntive. Ve le porterò qua all'interno del mio canale. Sempre più fresche come al solito. Noi siamo sempre aggiornati riguardo alle news dei vari giochi. Se volete vedere dei video aggiornamenti riguardo anche Clash Mini Clash Heroes. Dato che l'ultimo di Clash Heroes è andato molto molto bene. Fatemelo sapere qua sotto con un bel like e anche un bel commento. Dai ci vediamo oggi pomeriggio per chi c'è. Siano domani alle 14. Ciao a tutti.